Nuovi autobus ecosostenibili, stazioni di bike sharing e di ricarica per i mezzi elettrici, piste ciclopedonali, nuove centraline della qualità dell'aria, riqualificazione dell'ex pescheria e di piazzale Sant'Anna, oltre alla realizzazione dei collegamenti pedonali per l'accesso al centro storico della città di Chieti. E questa è l'idea strategica che il sindaco di Primio, assieme alla sua amministrazione, ha voluto illustrare questa mattina e che sarà dipanata attraverso due anni di lavori e 7 milioni di euro di finanziamenti Porfes-Rabruzzo 2014-2020. Ci riconsegnerà una città nuova, moderna, smart, più ecologica, più vicina all'ambiente, con una qualità della vita destinata ad aumentare grazie ai nuovi servizi, grazie alle nuove tecnologie che verranno spese nella organizzazione dei servizi cittadini. Questo vuol dire avere una città più accessibile, vuol dire riqualificare anche urbanisticamente alcune aree del centro storico, vuol dire rendere la città più accessibile attraverso nuovi punti di ingresso alla città pedonali, vuol dire rendere la città più fruibile attraverso un sistema di bike sharing, di searching hub per auto elettriche che ci darà la possibilità di rendere tutto quello che oggi è il mondo della mobilità elettrica possibile per tutti o per un gran numero di persone, vuol dire collegare le grandi aree di interesse cittadino dall'università all'ospedale, dall'ospedale al centro storico, dal centro storico al centro di Chiediscaro, da Chiediscaro fino alle periferie, con un nuovo sistema di trasporto pubblico ecologico, nuovi 14 autobus verranno messi tra elettrici e Eurosei in circolazione in città nei prossimi due anni, insomma nei prossimi due anni noi contiamo di riconsegnare una città moderna, una città che guarda al futuro.